e di nuovo qui un po di più in effetti qui mi servono ma perché quando disegni il tempo vola? ma perché quando disegni il tempo vola? siccome le labbra sono piene di screpolature vi conviene seguirle col tratteggio e vabbè adesso c'è un tronco praticamente una matita totalmente non appuntita però e poi c'è proprio il toglietto e poi c'è proprio il toglietto e via così ok ok questa la potevo fare con la penna a birra o veniva meglio ok grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok. Vedete meglio? Vedete. Ok. Vedete. Grazie. Grazie.